Il 17 non porta male, anzi al sindaco Foti andrebbe benissimo e porterebbe bene se tanti fossero davvero i voti d'approvazione del bilancio di rendiconto. Missione difficile, non impossibile, ma della serie meglio non rischiare per cui la seduta di consiglio in prima convocazione è destinata ad andare deserta. Da domani in poi di voti in seconda convocazione ne basteranno soltanto 11. Benché siano stati solo due i consiglieri a partecipare ad un vertice di maggioranza, il clima è di cauto ottimismo, anche perché non può permettersi un partito che sta per essere commissariato a livello provinciale di mandare a casa il sindaco del capologo. È attesa ad ore la nomina di colui il quale dovrà fare le veci del direttorio provinciale. Non si sa ancora se cancellando la convocazione del congresso straordinario per fissarne uno ad ottobre, oppure rinviando al prossimo anno la conta tra i democratici irpini. Il commissario avrà anche l'onere di decidere strategie su future alleanze, oltre che sulla scelta dei candidati a Camera e Senato alle politiche. Sembra avere ormai archiviato questa tentazione il presidente della provincia e sindaco di Ariano, Domenico Gambacorta. Se davvero volesse correre per un posto a Montecitorio o a Palazzo Madama dovrebbe dimettersi entro il 24 agosto. Venerdì porterà all'attenzione dell'Aula il bilancio provinciale Lacrime e Sangue, che rischia di non poter mantenere aperte scuole e strade. Il 22 invece si riunirà il Consiglio Comunale di Ariano. Fino alla smentita ufficiale o dei fatti, la candidatura di Gambacorta resta possibile. Forza Italia intanto apre una nuova sede da Tripalda e la notizia è il passaggio nelle file dei forzisti dell'ex sindaco di Tripalda. Paolo Spagnolo, dopo la guerra nel PD sulle candidature in rival sabato, sta per vestirsi d'azzurro.